Eh sì, è così questa qui. Quando sembra che sta per finire, invece riparte Born in the USA, Bruce Springsteen, il nostro Crystal History delle Otto. Ma adesso dobbiamo dare il benvenuto alla nostra ospite che non sa di avere una sigla. Sono il gatto sul tetto che ascolta tutto come fosse la prima volta con la faccia a tv. Più a radio che a tv, più a radio diciamo. Ma i baffi non ce li ha, confermo che non ce li ha. Stamattina un po'. Non sono proprio blu, però sono verdissimi. Se vi piace, chiamatemi. Silvia Gatti! No, vabbè. Ci sono dei... No, io sono scioccata stamattina. Eh, non ti aspettavi, eh? No, no. Fabio, grazie, direttore. Grazie. Cosa ho fatto per meritarmi una sigla così? Silvia Gatti, la nostra super radio gattona. Grazie. Qua si va poi in un altro campo, attenzione, come mi chiami. Vediamo bene se... Tu te la ricordi questa sigla che abbiamo mandato? Beh, sì, purtroppo sì, perché sono dell'83. Vabbè, non volevo dirlo, però infatti volevo dire, da questo si capisce se e di che età sei. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Vestitevi da cipolla, ragazzi e ragazze. Un freddo stamattina, ma che è? Ma non so, io sto bene in realtà. Sì, perché tu sei qui dentro. Io arrivo dall'altra parte della città. Un'altra cosa, precipitazioni addirittura di grandine e neve a bassa quota previste nel weekend. Quindi mettete via le scarpe aperte, le open-toe, eccetera, eccetera. Anche se io ho letto di tutto, in realtà. C'è chi dice che ci sarà il sole, c'è chi dice che ci saranno alte temperature, c'è chi dice che ci saranno basse temperature, c'è chi dice che grandinerà. Quindi mancano le cavallette. C'è anche chi dice che Napoli verrà ricoperta da 30 metri di cenere, ma lasciamo stare. Tutto questo weekend? No, in futuro, pare. Salutiamo tutti i napoletani all'ascolto, facciamo le corna. Questo video è comparso sulla TV svizzera. Ora lo possono visualizzare solo i proprietari della pagina dove è comparso, vedi tu. Ah, ok, bene. Niente, gomblotto. Comunque, come va? Come la va? Come la va? Bene, bene. Sì, da te come stai? Tutto bene? Sì, sì. Fuori salone, sopravvissuto? Siamo per fare questa domanda. Tu che hai attraversato la città, sopravvissuto al fuori salone o cosa? Sì, tranquilla. Non c'era tanto casino. E posso dire una cosa ai milanesi e quelli che abitano nei dintorni soprattutto. Conoscete l'Ambratte, la periferia est di Milano. Negli scorsi anni era diventato veramente un polo molto interessante per il fuori salone. Importantissimo a Milano il fuori salone, ma anche tutto quello che c'è intorno al salone del mobile, appunto chiamato fuori salone. C'erano camioncini che vendevano street food, c'erano DJ set in ogni negozio che affittava il proprio spazio. Sì, sì. Zona Ventura. Zona Ventura District. Ventura District, sì. Niente, ragazzi, niente da anni. Io sono dispiaciuta. Si parcheggia, è bene. Posso dire che io non lo sopporto il fuori salone, però mi spiace in realtà. Era vivo comunque. Tutti lavoravano, come si suol dire, signora mia. Però mi dispiace un pochino perché era fighissimo. Ad esempio, a Lambratte c'è un'antica villa, Villa Invernizzi. E i proprietari, ad esempio, aprivano in quell'occasione il giardino. C'era, non lo so, il track della California Bakery. Un DJ che faceva DJ set. Una biciclettina con un tettuccio che faceva i drink. Era bellissimo, veramente. Quanta milanesità in questa immagine. Si cuccava. Si cuccava anche. Allora, diciamo, il problema è quello. Il problema è sempre stato quello. Non c'è più fauna da tingere in questo problema. Ma era più facile col fuori salone. Ecco, si scroccava. I drink scroccati, non ve dico. Ricordiamo che ieri Andrea Kerchi ci ha raccordato al telefono che è riuscito a scroccare un cuscino. Scusa? E' andata a un'installazione. Ho sentito, sì. E' andata all'installazione e gli hanno offerto. Ma lei è un giornalista, ci registri? Ecco gli omaggi e gli hanno dato un cuscino. Vabbè, dai. Infatti adesso devo tornare così gli prendo anche il cuscino per sua moglie. Due cuscini, ma sono quelli per la cervicale. Sa com'è, signora mia? Indagheremo, indagheremo. Ok, va bene. Comunque, il fuori salone appunto ci sta ammorbando questa settimana. Sì, no, vabbè, Fabio adesso. E così è, dobbiamo tenercelo buono. Invece, sono tanti gli argomenti di cui oggi vuoi parlare. E facciamo così, facciamo l'indice dei temi che oggi andremo a toccare insieme a Silvia Gatti e poi andiamo con un po' di musica. Pensa, ho scelto della roba difficile. Dunque, l'obsolescenza programmata. Wow. E il fenomeno... Non esagerare. E il fenomeno della shrinkflation. 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 Questa non sapevo neanche che fosse così. Cioè, so cos'è, perché me l'hai spiegato, ho capito che cos'è. Capisci. Voi sapete cos'è la shrinkflation? Shrinkflation. Shrinkflation. Un mix fra shrink e inflation. Ah, vedi. Già non so cosa vuol dire shrink. Non so cosa vuol dire inflation. Mi creano una parola insieme. Vabbè, dai. Andiamo con un po' di musica. Maroon 5. Maroon 5 Payphone. Ah, a proposito di obsolescenza programmata, telefoni, cellulari, Payphone, vedi? Capisci. Per essere un uomo, una nuova marca di telefono volendo. Che bravura, che bravura. Payphone Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa. Ma quello di Wiz Khalifa è quello del Bru Khalifa? No, no, poi te lo spiego. Non è lo stesso. Non è lo stesso. Non è il cantante ref più alto del mondo. No, direttore. In quel caso, no, non credo. Va bene. Andiamo avanti. Musica. Payphone Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa. Comunque bravo per essere un cantacielo, eh. Proprio bravo, proprio bravo, sto califa per essere… Non riesco a starle dietro, direttore. C'è sempre lì, si fa le foto sullo sfondo, quando vai lì, fai finta di fare con un attore di Pisa che cade giù e poi invece… Tutto bene? Hai dormito? No. Ecco, no, per sapere che mica come le ragazze che hanno fatto della redazione, che hanno fatto Balera ieri sera. Sì, ben vissima, ieri sera in Balera sono andate. Pazzesche. Sì, sì, infatti hanno piccato la grande tutte e due, credo. Sono andate via prima loro degli anziani. Eh, sì, ma con quanti anziani hai dietro? Eccola una domanda. Eh, vabbè. Allora, 331-78-535-555, un saluto alla splendida e simpatica Silvia. Sono io? Sì, scrive un sordo cieco. Vabbè, me ne vado? O resto? Me ne vado, resto. Alberto, ciao, Alberto. Alberto, che però è malato, dico questo. Eh, alle trapegole. Hai sensi un po' alterati oggi. Va bene. Non è una novità per molti che conosco. Vabbè, niente, poi mette sotto anche il suo paypal, per dargli soldi per il messaggio bello che ti ha scritto. Va bene, ho qui 5 euro, poi li carico e te li mando. Va bene, no, invece Silvia Gatti qui con noi, appunto, che ci porta anche un po' di notizie dal mondo e anche dal suo vissuto. Perché oggi vuoi parlare di un tema che nasce da un tuo vissuto, ma poi in realtà è un tema di quelli che se ne parla tanto in giro. Sì, assolutamente. Sì, assolutamente è una gigantesca truffa a cui... Truffra. La truffa. E fai la radio. A cui tutti siamo sottoposti da anni, più o meno coscienti. Sì, infatti. Non è mai così truffa ormai. Allora, è l'obsolescenza programmata che mi fa sclerare, onestamente, quando vedo queste discariche colme e di vestiti, ma anche di oggetti tecnologici. È tantissimo. Vi è mai capitato che a un certo punto una cosa smetta di funzionare dopo un mese, due mesi? De botto o esplode. Così, de botto. Quella è l'obsolescenza programmata del tipo ho pagato un frullatore, e non dico frullatore a caso, 20 euro, funziona benissimo, neanche hai finito la frase che non funziona più. Sappi, signora mia, signore mio, che quella roba lì è stata programmata per non funzionare più. Non sei tu che sei maldestro o maldestra, capisci? Non c'è stato uno sbalzo così di corrente, no. Quel frullatore lo puoi usare poco perché? Perché loro vogliono, Fabio, che te ne compri una anche a basso prezzo. Ah, proprio, anzi, conviene. E in una vita quanti ne hai comprati? A 20, 15, 18, 20 euro? Guarda, una marea. Fatta il calcolo. Una marea. Perché dico frullatore, caro dire? Perché il tuo frullatore invece funziona perfettamente al momento. Posso dire mullinex? Sì, allora. Allora. Tanto che lo so, no, ci esiste ancora, ci esiste ancora. Ci esiste, ma ho questo frullatore dai colori e dallo stile vintage. Assolutamente quasi un pezzo veramente da arrendamento, da museo, che regalarono ai miei genitori per il matrimonio. Perché ai tempi, era il 79, servivano queste cose, mica fateci il bonifico per il viaggio. No, no. Saluto gli sposini e le sposine che si fanno fare bonifici. Sì, ne ho appena fatto uno. Il 27 aprile c'è un matrimonio appena fatto il bonifico. Tutto bene, almeno si mangierà bene. C'è l'open bar? Non lo so, però credo di sì, ma soprattutto loro se ne vanno in Giappone, quindi sono contento. E noi invece qui a buttare sangue. Comunque, no, no, ma anche io tantissimo. E nulla, questo frullatore venne regalato ai miei genitori. Funziona, Fabio? Funziona ancora. Perché attenzione, non è che la scienza programmata è una roba dove ci mettono dentro un demone che ad un certo punto esplode. No. Si utilizzano materiali più bassi di qualità, le guarnizioni ad esempio si utilizzano di una gomma che sai che dura due anni, tre anni quando ti va bene e poi scioppa. E l'està scioppa. Invece, nelle costruzioni degli oggetti negli anni 70 si usavano di qualità più alte. C'è anche da dire che forse si usavano anche delle gomme che adesso forse è impossibile produrre. Sì. Nel punto di vista ambientale forse. Ma lasciamo perdere, esatto. È impossibile produrre, però in realtà, pensa, allora, quell'oggetto in sé ha inquinato di più quando è stato prodotto magari di quello di oggi. Sì. Ma quello di oggi inquina di più perché lo devi cambiare dieci volte nella tua vita. Esattamente. Fra l'altro, essendo un pezzo che mi piace molto, purtroppo ho rotto la parte, il vaso, il bicchierone. Con il vetro. L'ho crepato. Non è in vetro, era già in plastica. Ah, ok, meno male. L'ho cercato perché non se ne trovano da gancia. 40 euro. L'ho trovato a 40 euro. In questo caso perché ormai è vintage, ok, però se voi andate a cercare, volendo mettersi con la buona volontà, il pezzo di ricambio di quel frullatore che avete preso a MediaWord, state certi che o non lo trovate, tanto non ci mandano niente, ok, non te l'hanno detto. Io pensavo più alle querele che ci mandano. Vabbè, ecco. State pur certi che se trovate il pezzo di ricambio lo pagate una cifra e lo pagate anche perché ci vuole qualcuno che sappia dove metterlo. Vi faccio un esempio, una nota marca di aspirapolveri e asciugacapelli, avete capito ben di cui sto parlando. Se avete un guasto all'aspirapolvere vi propongono di non aggiustarlo, ma con una piccola cifra di darne uno nuovo. Sì, capisci? Fanno prima così. E dove finisce quell'aspirapolvere o quel fondo? In un paese del terzo mondo, in una discalca sicuramente. Vogliamo aprire magari dopo un pezzo una parentesi anche sui vestiti, sul continuo uso di vestiti che ci fanno credere di dover acquistare per essere fighi? Sì, sì, sì. Quando invece, ve lo diamo la notizia, fate schifo sempre. Mentre invece io e Fabio, anche cunciati così la mattina, andiamo everywhere. Da per tutto, da per tutto. Andiamo avanti con la musica invece di due che sono fighi davvero. Ossia, insieme a Sean Paul. Duffy con Mercy. 8 e 33 minuti. 8 e 33 minuti. Faccio fatica a dire da 33. Facciamo che facciamo, ve lo dico, un minuto che sono. Facciamo prima. Di là fanno il TikTok. Ah, vedi, ma no. Andiamo. No, 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 no. Sto di qua che è meglio, guarda. Sto qui con il mio pubblico. 331-78-53-555. Grazie dei messaggi di WhatsApp che state scrivendo. Silvia. Allora, abbiamo parlato di obsolescenza programmata. e appunto di come, insomma, non si scappa. Anche se, devo dire la verità, notizie danno che alcune aziende incominciano invece a capire che, insomma, va bene tutto, va bene il guadagno e tutto, ma far vedere che il tuo prodotto magari sia un po' più ecocompatibile e quindi magari non così programmata l'obsolescenza può portarti a dei miglioramenti, soprattutto nei clienti, che magari dicono, ma però quell'azienda è meglio di un'altra. Quindi, aspettiamo che magari ci arrivino anche i big, che ovviamente sono sempre gli ultimi ad arrivarci, quelli più grossi ovviamente, quindi aspettiamo che ci arrivino anche i big e magari chissà che riusciremo a debellare questo grossissimo problema dei rifiuti soprattutto, no? Sì, i rifiuti, l'ambiente, ma anche un po' la questione di coscienza delle persone. Stiamo veramente prendendo sempre più coscienza collettiva del fatto che, ok, non ci saremo noi, magari fra 100-200 anni, forse, non si sa mai, però, insomma, anche per chi abiterà questo pianeta un domani è meglio forse preservare qualcosina, anche se alcuni dicono che siamo già in ritardo. Sì, siamo un po' troppo oltre il tempo. E anche sui vestiti spesso è così, no? Perché, insomma, c'è anche questa cosa qua. In questo senso alcuni big, grandi marche della cosiddetta fast fashion hanno iniziato a contrastare questo spreco assurdo che, invece, continua a esserci in altri marchi cinesi. Ho detto cinesi? Sì, sì. Ecco, non facciamo i nomi. Esempio. Una catena ha deciso che se tu ordini un capo, arriva in negozio, lo fai via web, chiaramente, l'ordine, questo capo arriva in negozio e lo lasci lì, non vai a ritirarlo, paghi un tot. C'è una sorta di piccola, vogliamo chiamarla multa, o comunque c'è una somma che tu paghi in modo da essere motivato ad andare a ritirarti questo pacco. Perché? Intanto il packaging, il trasporto, la persona pagata per portarlo dal magazzino al negozio. Insomma, c'è gente che dice tanto è gratis. Eh no. Allora, questa catena è una catena che comprende più marchi di fast fashion. Poi, ad esempio, c'è il settore riparazione, sempre all'interno di due, in particolare, marchi, non li posso dire, però comunque li vedete qua a Milano, in centro, in tutti i centri commerciali. C'è una sezione ripara, cioè una sorta di sartoria che ti chiede di portare nel negozio a te più vicino i tuoi pantaloni, la tua gonna scucita, la tua giacchetta che ha perso il bottone e te la ripara ad un prezzo, fra l'altro, sostanzialmente modico. Non apriamo la parentesi, eh ma così non si va più dai sarti nelle botteghe. Ve prego, questa è un'altra cosa, lasciamo stare perché anche lì è vero, però è un'iniziativa per evitare che le persone dicano, lo butto, tanto costa poco, ne prendo un altro. Ci sono anche poi dei piccoli bar, delle piccole caffetterie, in giro per l'Europa, pensa che si sono riuniti anche sotto a un grosso gruppo, su internet trovate tutte le informazioni, che hanno come obiettivo il riparare tutti insieme, sorseggiando un caffè, senza internet, senza telefonini, biciclette, vasi, piatti, monopattini, gratuitamente, magari al prezzo della consumazione, e pensa, vicino a questa riparazione c'è anche l'obiettivo e la voglia di insegnare a riparare da soli questa cosa, cioè ora te la riparo io, ma tu torni a casa che la prossima volta… Sai fartelo da solo. Sì, sì, sì. Poi l'assurdità è che siamo nell'era delle cose assurde, sapete che adesso c'è la moda del Kintsugi, sai cos'è? No. L'arte di riparare le cose rotte con l'oro, con la strada giapponese. Sì, sì, sì. Ma ho scoperto che ci sono dei posti dove tu vai, rompi quello che hai, per poi ripararlo col Kintsugi. Io dovrei essere tutta d'oro, se così fosse per le persone. Tu hai una roba intatta, la spacchi per farla poi… cioè non è quello Kintsugi. No, no, c'è quel fascino… L'abbiamo un attimino… Le rughe d'oro, diciamo, e invece no. No, l'abbiamo un attimino così. Su questo tema però del fast fashion, vi consiglio, oggi l'abbiamo già nominata due volte, la RSI, la TV Svizzera, ha fatto una bellissima indagine, io ho avuto la fortuna, l'anno scorso ottobre ero lì e quella sera c'era la TV Svizzera, questo dossier, una sorta di report loro, fatto benissimo su proprio la fast fashion e anche su proprio questa cosa del metto, ridò i miei capi in giro, loro poi hanno messo degli Artag dentro ai capi e hanno seguito la cosa e la cosa pazzesca è che dopo due settimane alcuni capi, hanno fatto varie marche, alcuni capi erano già andati oltre l'oceano, altri erano rimasti in Europa ma avevano tipo cambiato sei magazzini. No, che spreco però. Quindi in realtà comunque… Infatti il camion che portava una roba avanti e indietro così. Viste, dobbiamo ripigliarci tutti. Dobbiamo ripigliarci tutti, infatti. Ti fanno pensare, ti fanno credere di volere quella giacca in più, quella maglietta in più e io ci casco, attenzione, non sto facendo veramente la ramanzina a nessuno, io ci casco. Vabbè, io mi metto una cosa, esco e vado bene. Eh sì, un filo di Chanel numero 5 e basta. Sì, certo, ma vogliamo ricordare però che la TV Svizzera non sono il signor Rezzonico e Aldo Giovanni e Giacomo. No, non sono neanche quelli, ma allora mi dai l'asset per ricordarvi anche che però esiste una bellissima serie che nasce sulla TV locale del Varesotto, ma poi importata sulla TV Svizzera che si chiama Frontaliers. Insomma, cosa stai dicendo? No, andate a vederlo, veramente, dove si prendono in giro da soli ed è la storia di un Varesotto che deve andare, un Rezzonico del caso che deve andare a lavorare in Svizzera tutti i giorni e il Dogagnere Svizzero che fa lo Svizzero. Non si può passare qui, boom! Più o meno così, più o meno così. E veramente, vi dico solo che dalle parti appunto di Locarno, così, fanno le serate a teatro. Tu stai scherzando? No, 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 giuro. Io vado. Frontaliers. Cercate, io ho il DVD, mi hanno stato regalato il DVD anche. Io vado. Cioè, Frontaliers, guardatelo, cercatevelo. Cercatelo su YouTube, fa impazzire, fa morire da ridere. Andiamo avanti con la musica e andiamo avanti a camminare come degli egiziani. Sì, walk like an Egyptian. The Bengals walk like an Egyptian. Invece non cammina come un'egiziana ma come una di Lambrate, la nostra Silvia Gatti. Walk like an Lambratean. Sì, certo. Dopo una certa ora Lambrate, specialmente in certe zone, si cammina non troppo dritti. Ma questo è un altro disco. È venerdì, si inizia il weekend. Non perché siamo appunto tipo spingi o così, ma perché appunto i locali danno del loro meglio. Comunque, parliamo di un altro fenomeno invece di cui vorrei raccontarci oggi, che è la shrinkflation. La shrinkflation è una parola che pronuncia inglese, britannica. E proprio tutta la Royal Family muta. Tutta, tutta, zitta. Ecco, un connubio, un'unione fra le due parole shrink, che vuol dire restringere, e inflation, che vuol dire? Inflazione. Ma bravi. Ah, ok. No, vabbè, ma quanto ho studiato oggi? Per me non vuol dire inflazione, comunque inflation. Sì, sì, shrink inflation. Shrink inflation. Ci fregano anche lì, ci fregano anche lì, signora mia. Te la ricordi quella trasmissione Mi Manda Rai 3? Sì. Che però era Mi Manda Lubrano. Sì, sì, sì. Ai tempi di mia nonna. È stato in questo studio, eh? Lubrano, vorrei dire. Sì, scherza. Posso baciare tutto? È stato in questo studio. Le tavoli. Sì, sì, sì. Adoro. Stellino, lui, vabbè. È vivo? Non mi domanda, non lo so. Scusate che gap. Il signor Lubrano è vivo? È ancora vivo, c'ha 92 anni. Ok, dalla redazione, cioè. Fatti il 4 febbraio. Complimenti a Antonio Lubrano. Lo salutiamo, Antonio? Sì, sì, sì. Mi abbiamo allungato la vita. Lunga vita a Antonio Lubrano. Ok. La shrink inflation, che cos'è? Quella, anche lì, è una strategia. Tu sei al supermercato, te la dico proprio così. E dici, oh, i miei biscotti preferiti, le gocciole. Sì, 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 sì. Vari. Vari. E dici, ah, ma guarda, il prezzo non si alza mai. No. Torni a casa, dopo tre giorni dici. Ma che ho già finito le gocciole? Ma sono io che me bagno pure mia madre? Cioè, oppure, eh no, ce n'erano di meno, caro dire. C'erano meno biscotti, c'era meno pasta in quella confezione, c'era meno bagno schiuma, c'era meno shampoo, in quello shampoo che ti chiude le doppie punte col silicone, eccetera, eccetera. Ve lo dicono? Le bibite. Le bibite. Quasi tutte sono passate ormai dall'ex 500 CL, sono quasi tutte su a 400 CL, alcune 350 anche. Ve lo dicono? No. Non ve lo dicono. Non Cielo dicono, scritto Cielo. No. Ok. Dicono con la K. Perché, ragazzi, sulle bibite basta guardare la bottiglietta, si vede che è più piccola. Però ti dico una cosa, guardi la bottiglietta, stai sicuro che in alcuni casi te l'hanno cambiata, te l'hanno resa più carina, hanno cambiato la forma dopo 100 anni e tu dici, oh che bella, guarda questa bella bottiglietta. Ecocompatibile. Ecocompatibile. Te lo dicono che te lo fanno per l'ambiente. Hai visto l'acqua in cartone? È genialata? Sì, sì, sì. Un euro 33 CL. C'è, c'è, c'è. Eh, vabbè. No, comunque, non ce ne accorgiamo, però ci sono dei consumatori in associazioni, eccetera, che hanno protestato, giustamente, e hanno obbligato certi marchi a scrivere questa cosa. Ok, sì, ci sta. Perché stanno dicendo, vabbè, se protesti uno può fare il formato che vuole, però giustamente dici, se cambia il formato me lo dici. Sì, puoi fare il formato che vuoi, però è quasi volutamente, è un po' velato, ma me lo stai facendo apposta, cioè tu sai che io, consumatore, piglio, sono le otto, no, sono le ventidue e meno cinque. La cassiera già ti sta guardando male. La cassiera già sta andando a casa e tu ciappi su, come diceva mia nonna, tiri su tutto e non te ne accorgi perché sei stanco, sei stanca, devi fare la spesa veloce, passi la tua carta, strisci da milanese imbruttito, da romano imbruttito, da palermitano imbruttito e a fine mese ti imbruttisci ancora di più, perché dici, ma che cavolo qua, maniamo tanto, ci laviamo di più o c'è qualcosa che non va? Lavarsi di più dubbito, non c'è nessuno che stava di più. Senti, arriva l'estate, ti prego. Appunto, per quello lo dico. Ti prego Fabio, ok, ecco direttore. Comunque non ringraziatemi eh. No, no, infatti comunque è vero, state all'occhio, dopodiché possiamo farci più furbi, date sempre un occhio al prezzo al litro, prezzo al chilo, prezzo al pezzo, perché ci sono, dove uno spettro di legge sotto, quindi date sempre, e lo so che è una rottura di scatole, si perde tempo e tutto, però leggere l'etiche, a volte non ne faccio neanche quello perché non capisci dove è il prezzo, ci sono frecce che ti indicano che devi girare l'angolo, andare a chiedere a uno per strada dov'è i bagni pubblici della casa di fronte e poi a quel punto trovi il prezzo nascosto dietro la tavoletta. Però se li trovate, date un occhio, nel senso che effettivamente ci sono e di fianco c'è il prezzo sempre al litro, c'è il prezzo al chilo, ogni tanto ho trovato il prezzo al letto. Ma sei matto, veramente? No, ci sono, perché quando costa troppo, se tu devi mettere questa mille euro al chilo una roba, c'è lo zafferano, non c'ha il prezzo al chilo, perché costerebbe una roba Lo zafferano è oro, è vero. E quindi c'è il prezzo, credo, al letto se non al grammo, tra parentesi loro. Sì, è vero, al grammo. Devi fare tutte le tue... Devi avere tempo, ti ci devi dedicare, invece noi se andiamo veloci, comunque lo zafferano come la mette per la barba in cassa, anche il prosciutto crudo comunque costa, io sono vegana, non lo mando. C'è il prezzo al letto, ad esempio. Sì, vabbè, sì, quelle cose vengono vendute alti e sono anche molto, dicevo, vicino alle casse, perché ci sono dei generi che vanno tantissimo. Nei supermercati vicino, diciamo, ai poli studentesti, sai cosa c'è sotto chiave? No. Le scatolette di tonno, la pasta col tonno dello studente in trasferta. raga, è vera, cioè il Leonardo da Vinci qua a Città Studi, a Milano, se tu vai in un iper lì in zona, ci sono le scatolette di tonno sotto chiave, cioè manco fossero super alcolici, capito? Fantastico. Vabbè, vi dice, guardate i prodotti e vi dirò chi sei, cioè quello è il concetto, no? Io guardo se c'è uno carino, guardo cosa prende di spesa e vedo se è singolo o no. Vabbè, basta. Vabbè. E dopo questo momento di tristezza andiamo con l'ultima canzone di oggi e poi torniamo qui a salutarci insieme a Silvia Gatti. Giovanotti, mi fido di te, alle 8 e 49 minuti, Crystal Radio, venerdì 19 aprile, Good Morning Milano.